Ciao a tutti, oggi parleremo della differenza tra la stampa in policromia e in quadricromia. Partiamo subito con capire quali sono le differenze tra queste due tecniche. La stampa in policromia in realtà è una stampa che si compone di tantissimi colori, possono essere da uno a mille o più ancora, che si stampano uno accanto all'altro, però non si influenzano. Nel senso che in realtà può capitare a volte che, la maggior parte delle volte uno li stampa uno accanto all'altro, ma può capitare a volte che comunque qualche colore, tipo il nero, che è un colore molto scuro, si decide di stamparlo sul giallo, però comunque il giallo che è sotto non andrà a influenzare il nero che è andato di sopra, proprio perché in policromia le tinte sono piatte, sono stampati con inchiostri coprenti e quindi questi colori non si intersecano, non influiscono e non si modificano, anche se comunque vengono minimamente a contatto. Mentre la stampa in quadricromia, logicamente, è una stampa composta da colori specifici per quadricromia, che sono il ciano, il magenta, il giallo e il nero e gli inchiostri devono essere proprio fatti apposta per quadricromia, proprio perché non saranno più inchiostri coprenti, ma saranno inchiostri semi coprenti, che invece venendo a contatto l'uno con l'altro si influenzeranno e quindi creeranno delle tinte diverse da quelle di partenza. Quindi è molto importante per entrambi i tipi di stampa impostare correttamente la pellicola e l'impianto del telaio. Nel caso della policromia sarà necessario andare a decidere bene l'ordine di stampa, logicamente, e andare a sottrarre da ogni livello il colore che viene sopra, in modo quindi da ottenere comunque tutta una sottrazione di colori e fare in modo che non si stampino appunto un colore sopra l'altro, proprio perché comunque non avrebbe senso. Mentre in quadricromia ci si comporta totalmente diversamente, perché invece che suddividere ogni colore e farlo diventare un telaio, quindi nel caso della policromia se noi abbiamo un decoro che è composto da otto colori, noi ci ritroveremo con otto telai almeno, perché se stampiamo su bianco logicamente ci basta avere gli otto colori di cui è composta la grafica. Se invece stampiamo su comunque un supporto, un fondo scuro, sarà necessario in realtà avere anche il bianco, che sarà il primo colore e sarà il fondino su cui noi andremo poi ad applicare tutti gli altri. Mentre nella quadricromia ci si comporta diversamente, proprio perché i colori invece vanno a interagire l'uno con l'altro, e quindi noi utilizzando il nostro software di riferimento, come può essere Photoshop, andremo a suddividere la nostra grafica nei canali di riferimento, che sono quattro, il canale del ciano, del magenta, del giallo e del nero, e andremo a stampare solamente queste quattro pellicole e incidere quindi questi quattro telai. Solo questi e nient'altro, proprio perché i colori interagendo l'uno con l'altro andranno poi a mescolarsi e a creare tutte le tinte in realtà di cui è composta la nostra immagine, e quindi anche se ci ritroviamo con un'immagine che magari ha tantissime sfumature di tutti i colori, a noi basterà avere questi quattro colori da quadricromia, proprio apposta per quadricromia, che ci permetteranno di ottenere tutte queste tinte. E se avete dei dubbi, oppure volete farci le vostre domande sulla serigrafia e sulla stampa, noi siamo disponibilissimi, potete scriverci a info-cplfabrica.com oppure visitare il nostro blog sulla serigrafia, dove troverete già tante domande, ma sicuramente ve ne verranno di altre, per cui scriveteci e noi vi aspettiamo.